Daniele Damario, il turismo accessibile è centrale a livello di economia abruzzese? Assolutamente sì, noi stiamo cercando di svelare quello che noi riteniamo sia il segreto meglio costruito al mondo, cioè l'Abruzzo. È evidente che il turismo accessibile a tutti è sicuramente un requisito per una regione che vuol fare del turismo una parte importante della propria economia. Oggi presentiamo questo progetto che abbiamo realizzato dal 2022 al 2023, Bike to Coast for Everyone, che ci ha permesso di dotare 19 comuni con stabilimenti balneari dedicati ai portatori di handicap. È un progetto che prevede anche una parte formativa per quanto riguarda le persone che poi devono accompagnare questi ragazzi sugli stabilimenti balneari. Quindi insomma un progetto di circa 1 milione e 300 mila euro finanziato dalla Presidenza del Consiglio e cofinanziata da Regione Abruzzo. Riteniamo che sia un biglietto da visita importante, ripeto, per una regione come l'Abruzzo, che fa del turismo e soprattutto del turismo inclusivo una buona vetrina. Grazie. Grazie. Grazie.